Allora, ho bisogno di dire che le criaturi del centro storico del primo del 1943 erano dei sottotitoli. L'alghè era l'alghèveglia, a voi l'alghèveglia è il rio Sant'Agostino, è l'alghèveglia, è la parrera, è l'argillera, è un mondo di rionzi, però all'epoca l'alghè era l'alghèveglia, era la muraglia. Il 17 maggio 1943, la mattina presto si diffonde una voce, pare secondo quello che avevano poi accertato, uscita dai forni dove le donne andavano a cuocere il pane e questa è una voce che si diffonde da persona a persona, mauto, mauto, come dico gli inglesi, e dice stanotte bombardano. Gli hanno detto, miravo che noi sveglia riesco a andare a bombardare qualcuno, ma che vuole apposare il capo e non lo tornavano a casa. Un montone di genti non si sfiara. Io sarei stato a San Giovanni, o a San Giulia, o a un tiera, lo scarabinieri hanno fatto il giro delle campagne, fino a via i velti e via genti. Invece, ogni tanto sono un'azza in casa. È stata una scelta fatale a Ceglia, per cosa effettivamente erano bombardati davvero. Come ha fatto che c'è una donna passata in Italia, che l'aguantavano da parte nostra e dall'altra parte tiravano per entrare. E poi è passata, la porca ha fatto passata, con qualche miracolo. E poi è da un'azza che si muove.